ehi ciao benvenuto benvenuta sul mio canale se la prima volta che guardi uno dei video vi presento io sono vero wild a s m l ciao a tutti 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 e tutti tutte 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 il video di oggi sarà un video molto breve un video di hand movement movement molto 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 e voglio vedere se riesco ad addormentarti in 10 10 minuti io io penso di sì mi piacciono così tanto mi piacciono così tanto io intanto libera la mente e concentrati sul tuo respiro e prenditi questi 10 minuti solo per te quindi quindi mettiti comodo comodo straiato o seduto e concentrati a mettere una mano sulla pancia a mettere una mano sulla pancia attenzione riporta l'attenzione sul tuo respiro iniziamo con te magari a respire un po' più profondi chiudiamo gli occhi chiudiamo gli occhi respirazione normale cerchiamo di sentire il nostro corpo che sensazioni ci sta mandando se sono sensazioni leggere o se il corpo si sente pesante ascoltiamolo e ascoltiamolo continuiamo a respirare a respirare e fa sempre bene prendersi 10 minuti della nostra giornata per noi stessi per noi stessi rilassamento e corpo non non ti preoccupare se la mente vaga è normale se succede se succede riportala dolcemente al tuo respiro e ora ora come ultima cosa partendo partendo dalla testa partendo dalla testa inizia a fare uno scan del tuo corpo soffermandoti soffermandoti nelle zone più dolorose quindi parliamo dalla testa scendiamo sul corpo sulle braccia scendiamo le mani torniamo sul dorace soffermiamoci nelle zone un po' più dolorose e ricordati che il dolore si può controllare scendiamo scendiamo fino al bacino le gambe le ginocchia le poggi le caviglie fino fino ad arrivare alla punta dei piedi grazie grazie per aver meditato con me questa sera e ricordati e ricordati che fermarsi anche solo per dieci minuti può fare bene sia la testa che al corpo ti ti chiedo ti chiedo solo una cosa prima di addormentarti pensa a un pensiero positivo un pensiero che ti faccia stare bene sono sicura sicura che domani sarà una giornata super positiva buonanotte 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 Grazie a tutti